ok yoshi wally world wii u si parte ah qui posso scegliere ah no al colore questo è il salvataggio qui nuova partita normale ok partita alla cieca non ci ho mai giocato non ci ho mai giocato vediamo che succede questo questo è l'entro questo è un gioco di credo soli yoshi in stile diciamo little big planet in stile cotone in stile di pezza almeno a quanto vedo ma ne sono tanti io il classico è quello verde questo che spiega a gomitoli di lana non ho idea di quanto è lungo di cosa succede diciamo è una blind run e vediamo cosa succede questo è un intro questo che è il cattivo che trasforma tutti le devo riportare alla normalità non lo so uno si salva scommettaci fuori quello verde vediamo eh ecco questi due si sono salvate il verde e il rosso allora lui non ce lo fa anche a palla ecco ecco loro vanno con lui vanno ah le voleva liberare eh però non ce lo fa lui scappa con loro gli basta il gruzzolo che ha preso e noi due il verde e il rosso rimaniamo a ah l'ha messo uno per mondo guarda questa deve essere la mappa sotto forma di di cosa sotto forma di eh pasticche non lo so allora vola via perdendo qualche gomitolo per strada ok che si fa dobbiamo salvare gli altri ingomitoli ok ok iniziamo una nuova entusiasmante avventura ok riusciremo eccoci qua riportarli ok posso scegliere se essere il verde o il blu credo il rosso è per il doppio va bene proviamo il verde vai mondo 1 vediamo come va che c'è da fare mondo 1 1 l'unico disponibile vedo attualmente disponibile questo non lo so non ci va per ora andiamo via vai ok Yoshi di lana entra in scena mondo 1 1 c'è da prendere anche questi oggetti eh vabbè c'è i timbri stile super mario e che sono cuoricini 0 20 ma non lo so io punto a fare diciamo eh lo stage eccolo oh bellino allora salto lingua accia lingua lunga ahahah ok questo si mangia questo questo ah 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 fa i gomitoli queste monetine ok questo si plana vabbè io non punto a fare lo stage perfetto eh al 100% perchè hm non lo so se ci sono segreti non lo so se se qua giù sotto il suolo eccoci qua se qua giù sotto il suolo legato e no ah mi dai timbre si senz'altro ogni stage sarà pieno i segreti ma che ci posso fare a me basta superarlo alla meglio è un punto a fare il 100% di stage oh si va giù stile super mario oh monetine come se fossero monetine queste ah vabbè c'è i timbre le dovresti prendere tutte e venti in questo stage si va su su ok nel rosso c'erano loro ok andiamo questo che fa ok ok salto svolazzante l'ho già trovato eccolo qui oh ah questi sono da prendere strada segreta ok ok annullare il lancio qui c'è un po' il tutorial è il primo mondo oh sopra c'è roba niente ok ok prese ah questi cuoricini cercava ecco ecco quelli qua quanti ne posso trasportare al massimo c'è anche uno grosso quanti ne può trasportare tutti questi mi ha detto due quattro sei oh angioletto ah che musichina ok qui si fa x eeeh prese aspetta un altro mi entra si tre da massimo sei non sono poche allora questi si spostano ah beh prendi questi vabbè ma io non punto a tutto insomma non punto a al 100% di stage eh qua c'è un altro trucco per esempio come fa ah ci va ci va questa non si sposta eh che gli fa qui c'è un fiocchettino eeeh aperto tutto per prendere la margherita e le margherite contano vabbè se non anche qui c'è un fiocco per esempio c'è un fiocco mi sa che si riapre anche qui e vedi quanti monetine monetine che mi dà la vita a mille non lo so ma ah tornavi di qua madonna questa non l'ho presa nemmeno uno vabbè dai poi insomma meglio viaggiare che che presi va bene 10 20 poi non mi interessa prendere tutto ora è giusto perché è il primo schema se no tiro veloce ah qui si plana x x che vuole ah queste sono scappate le margherite no allora qui c'è strada forse di sopra anche vediamo che sono belli ricchi qui riva dentro qui riva dentro qui c'è roba si sposta con no con la lingua si sposta questo ok qui c'è ancora roba questo aiuto 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 questo è un finito via via è un finito allora niente preso eeeh 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 questo ah questo è pende avvia questo è ah l'ho finito io comito che l'ho finito tutto ok questo pende avvia qui me le ridà però ragazzi senza questo mi sa che non fa niente senza questo ti rimane la linguaccia allora dentro basta c'è anche qui oh no se andava dove prima vabbè andiamo andiamo qui qui questo è un nemico questo è un mirino di sotto non lo so se c'è strada non posso fa tutto con la lingua va bene eh oh una margherita se no non si passava margherita qui si sto capendo questo come si fa con la lingua oh qui ho perso questo non gli fa niente come si apre questo sto fagotto questo non mi fa niente questo non si apre si che si apre ho la lingua ah grazie mi servivano quella mi mancava eeeh così 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 altra margheritina altro girasole si va anche di sotto no invece ho messo tanti nemici quello grosso quello grosso non so che cambia vabbè io qui così fai si quando sei a corto fai con con la lingua lunga così così su eeeh presa 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 così aspetta però che ho leggetto roba qui c'è roba però se devo andare su per forza se giù c'è ancora strada non lo so va bene così eeeh checkpoint arrivo primo mondo finito gioco bonus vabbè risultati ho preso 20 guarda di sticker 3 margherite e 2 mi sono scappate se l'ho visto ho preso parecchia roba non tutto 19 20 va bene dai poi i mondi le puoi ripete ho visto gioco bonus che devo fare e qui non lo so qui si muore eh non lo so che devo fare va bene va bene va bene va bene o si devo prendere la frutta io non posso questi punti a cosa mi servono non lo so mondo 1 ok mondo 1 ho finito ho capito una spilla eh modalità relax sarebbe quella un pochino più facile allora ho preso questi questi 2 4 5 ah e uno liberato ho capito e si aggiunge a me ok Yoshi Fiore ho ricomposto oh quanta roba la cosetta degli Yoshi è apparsa ecco ora mi da accesso al mondo 2 capito come c'era il tutto ho capito poi non lo so se c'è anche qualche boss questo è ah si qui mi fa usare un altro Yoshi allora se voglio ora no rimango fedele col verde vai qui se no c'è anche a destra qualcosa ma andiamo qui allora con le spille eh ah nella casetta si scambia sta roba completa lo scenario all'istante informazioni va bene non si vai senza spille poi guarderò dove si scambiano queste perline ok foresta salin cesta il mondo 1 è tutto così tutto verde ok qui senza altra la difficoltà un po' aumenta allora c'era questo però senza gomitolo non fai niente il gomitolo chi me lo dà ah eccole le perline a 2000 allora chi me le dà i gomitoli è leggera roba forse fu così forse fu così eh vedi facciamo così vabbè c'era questa buono buono no qui c'è roba non c'è roba forse si di sotto eh vedi vabbè ci sono una gretina che siamo a livello perfetto però insomma ma va bene dammele vai devo fare veloce no ci so ci so questi li fanno comodo questi nemici perché ecco vedi ci apri altro oh che c'era eh la margherita e qui c'è roba vabbè lascia stare non lo voglio tutto cento per cento allora questi qui con una planata ci arrivi eccoci ho preso questo questo un fungo una castagna e di sopra vai never go vabbè questo non sta fermo vabbè dove sto si prendendo non si prendendo forse anche se ci salta in testa la mario ecco preso preso beh se poi c'è se poi sotto c'è roba cioè non tiro dritto insomma prendo velo e vedo quello è poso non mi posso soffermare eh lo so qui non c'ho il pezzo guarda a meno non riuscendo giù devo prendere questo ecco vedi questo non ti fa preso questi si scappano basta basta eh lì c'era altro per esempio andavi su ma va bene così dai questo va fatto per forza invece allora no no questi quando vengano infiniti è perché mmm ah no eccoli qui i gomitoli vengono infiniti i nemici perché devi fare qualcosa cosa tipo così eccoci qua sacchettone è chiaro questo guarda questo me lo vuole darvi così così queste rimbalzano si lasciano sta eeeh qui devi sparare no ma c'è un altro mangioletto aspetta mi fa un attimino un tilt oh mi fa un attimino un tilt ma è andato oh no oh no è andato un attimino un tilt ora si che non vedo niente non vedo cosa c'è da fare non vedo cosa c'è da fare qui c'è una campana ecco come me lo fanno vedere va in tilt qui aspetta va in tilt qui mia va bene però c'è una porta però non si apre ecco aspetta fammi vedere qui mi va in tilt qui ecco se c'è una strada secondaria c'è una strada ma è strana perché il remolatore era perfetto però c'è qualcosina è che è buo ecco io ho detto ho finito no ma ci torno di qua ma ci torno di qua ecco io ho detto ho finito ok ho preso questo ok ok io c'è ombrello via via meno male il bug l'ho levato era un attimino qualcosina gli dava noia non so cosa per il resto il gioco vedo che è super perfetto poi non so se c'è qualche crash fix qualcosa ah c'è il tempo peccato era un bonus o un nome rimanda di qua allora qui non vedo abbastanza aspetta ma ci devo andare per forza ci devo andare per forza o è un bonus cioè non è che vediamo se c'è un'altra strada allora va meno di prima no questa è una osa che finisce qui è una osa che finisce qui preso sì non è una osa che finisce qui la strada è da un'altra parte qui mi rifà le righe fammi vedere qui che c'è non mi fa finire lo schema sto bug qui io ho aperto tutto ok va bene dai qui che non posso giocare così allora qui c'è qui non vedo c'è la strada ma scusa ma qui si è arrivato dove abbia pazienza pregato un attimo non delta la strada è a destra la freccia la vedi che mi oscura tutto aspetta è forse lì c'era un forse lì c'era ah come si fa non so come riprendere il tempo eh comunque sia questo è un mini gioco eh poteri porta qui nooo no no lo devo fare per forza allora va bene va bene va bene va bene va bene ce l'ho fatta meno male va bene ho levato il filtro il filtro video fastidioso che non mi faceva vedere qui che c'è qualcosa qui qui aspetta allora questi sono finiti questi per andare controlla qui eccoci vediamo che c'è qui dentro vediamo che c'è qui dentro vediamo che c'è perché non lo ha visto ne vuole tutte e quattro si ne vuole tutte e quattro se no non si apre ne apro un'altra allora eccoci qua si apre si apre allora che è successo non ti è garba non ci si è voluto andare in questa cerniera ah dove andai allora qui eccoci qua ho preso tutto si qui mi danno un po' di punti si va bene così dai va bene così è uno stage segreto la strada e basta la strada vedi qua allora si prosegue su armato di gomitoli allora questo se la c'è sta aspetta e nasconde roba è lo stesso dai ok ho già preso la mano di come si fa allora e levati la lingua di fuori la tira lo stesso si la linguaccia la fa anche quando i gomitoli addosso ok aspetta e c'era roba lì ah 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 c'era roba c'era roba c'era roba c'era roba c'era l'ultimo musettino lì vabbè però non arrivo l'ultima volta perdo tempo lo vedo e già l'arrivo no no era era ma quasi quasi lo lascio stare qui cosetto allora era qui oh ha visto ora si può andare via ora si può anche andare via ora lo può fare questo eeeh arrivo arrivo vai a eeeh mondo 2 giù mondo 2 giù vai dopo provo un altro Yoshi ora tengo il verde vai oh vai 20 vabbè quanti ne ho presi ne ho presi 2 margherite ok 2 3 4 5 tutti 15 20 ok mondo 1 questo è un mondo 1 ok una nuova spilla dove le scambio ste spille allora qui mi da un altro io scetto è perfetto verde militare ah ah arboreo vediamo se se poi non lo so laggiù c'è un boss a fine eh vi dice i boss poi allora mmm dove le scambio le spille qui no mi ha detto le spille mi vede qui si scambiano si ricorda un po' Little Big Planet però con gli Yoshi ah ecco ecco Amiibo no boh Amiibo teatro teatro dei ricordi questi sono collezionabili Amiibo non lo so dove le cambi le cose comunque per l'ora fu bene anche così vediamo un attimino lo stesso che a questo casette di Yoshi questi sono quanti ne ho liberati casette di Yoshi si 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 beh per l'ora questo è presto va bene andiamo 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 che ora voglio giocare normale allora uno due mondo tre vai qui c'è un boss che fa capolino allora allora gioca senza spill duemila completa lo scenario all'istante crea solo gomitoli grandi ah c'è compreste cose va proviamoli va novità diamogli mille spendiamo sti soldi e crea solo i gomitoli grandi oh la grotta spugnosa ok oh qui c'è qualche aiuto ok mettiamo sul burro per spostarlo eccolo qui oh si rimane incastrato allora questo diciamo questo bellino tutto colorato qui c'è il verso per passare se no non si passa ma è marzapane allora più di così non corre oh qui allora con questo avvenito ti dice ah questi portano tutti appunti e qui non posso si ci vu ci vuol il trucchetto la margherita va bene non lo si va bene non lo si si prosegue tutto giù ok qui altro indizio altro aiuto schianto a terra va bene va bene si si capito grazie e si va via ok non so se qui ci sono questi scappano no questo mi ha dato una barriera ma solo gomitoli grandi e che è meglio boh ah il gomitolo grande è più cattivo aspetta c'è strada anche di qua no qua non c'è strada legata ma aspetta che questo ora posso ecco i vulnerabili ok questo mi da roba vabbè su c'è roba però insomma lasciamo sta non si finisce più di qua c'è roba qua c'è roba questi gomitori le perdi questi mi fanno male beh c'è roba non posso esplorare tutto solo gomitori grandi ho comprato qui dove spari spari tanto è stile birillo beh allora la mia vita dov'è la mia vita non capisco mia quante colpi ho io per morire non ce l'ho uno singolo l'energia non me la vedo eh ma ce l'ho ce l'ho ah è quella l'energia quei cuori ah vede può essere anche veloce eh ce l'ho ce l'ho l'energia è questa l'energia qui l'ha ripresa non lo so oh domoglio lo vedo qui si fa così 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 devi seguire lui ti ci portano la strada vera lui li schiaccia e via ok lui li schiaccia così così sempre come barriera poi l'ha finito oh è mortale questo eh vedi quella mia energia questa madonna è mortale ho capito ho capito sono mortale vabbè c'è qualcosa ma vabbè che mi dà ah un bonus ovvia prendiamola sta roba beh però ce ne vuole il trigomitoli qua ah così si cancella così si spara questo devo prendere ah c'erano le margherite sono a stage sono totto margherite ogni stage va bene ok ok bastose ah di sotto serve di sotto serve però di sotto non ci va oh di sotto non ci va per ora questo fai così oh no su non ci va ah qui questo si rompe sì ok poi qui si prende anche che non si può prendere allora senza tutto fai con la linguaccia con la linguaccia ci fai anche il gomitolo però aspetta giù c'era roba come si va da qui però senza gomitolo questo non lo apri allora attestate attestate sì va bene guarda io la cerestà quello c'era un oggetto però e magari non l'è libero però aspetta qui non si passa qui non si passa come passo qui aspetta quello è facoltativo e la strada è di qua la strada è la strada dov'è quella vera a destra o allora questi ti ridanno il gomito ok e fo così perfetto ora fo oh capito ho capito però ancora non ho sbloccato la strada principale allora se torna il nemico eh se torna il nemico io non passo perché qui non rimbalzo più di tanto devo aspettare quel nemico dov'è quello che ora arriva arriva un nemico ogni tanto se no su non ci vai e su è la strada principale sì vabbè torna se non torna non si va avanti non torna per ora il nemico eh ora si aspetta eh ah ma eccoli i tiri vicino a quanti te ne pare di questi e vicino a quanti te ne pare qui può fare anche così oh ora a posto ora si va questo lo prendi così ah no questo va proprio liberato ti ci porta lui ho capito ne avrido qui c'è un altro qui eh che c'era fai un tritio fai un tritio fai un tritio oh oh il mondo 3 è finito il mondo 3 è finito va bene se non prendo tutto pace non ci punto a prendere tutto punto a fare stage a velocità giusta né lenti né troppo veloce stage giusto quello che trovo sotto mano prendo ok aperto mondo 4 una torre apparentemente e questo l'ho fatto sì perché c'è lo Yoshi liberato liberato questo oh nel 3 però non ho liberato lo Yoshi qui no per esempio eh ogni mondo è sempre più difficile vai fortezza di tanta l'opona vai ah però costano roba eh te l'ho già comprato senza spille non lo so il gomitolo grande ti aiuta ma spendi mille poi solo per una volta ho capito allora qui ci riprende a queste ecco i piccoli sono un po' più scomodi ma almeno questo che vuole una talpa o almeno risparmi mille vede che questi tirano l'energia eccola eccola la mia vita eccola ma sotto che c'è le talpe perché mi manda ah questa si fa così eh lo vedevo lo vedevo anche di qua queste le prende o queste va bene così poi prende anche così oh quante sfere va bene va bene non punto a prendere tutto però insomma se c'è qualcosina eccole qui allora e come fa liberare lo yoshi lo yoshi lo libero se e lo posso anche giocare se prendo 5 questa mi dà energia 5 non lo so 5 oggettine allora c'è queste sembrava il muro di sopra invece no ce l'ho ce l'ho poi ci sono lo stesso i gomitoli grandi mia vero ecco qui è una parola questa non si prende te lo dico io come fa prende quello questo è invincibile ma ce l'ho padellato ma non mi posso fissare e te magari li devi fare da peso vediamo se perlomeno prende questo così difficile no è troppo alto l'ultima volta si c'è andato c'è andato per un zoom margherita ti vedo ti vedo qui ce la facevi con un salto giusto questi sono lì yoshi eccola va la morte così si va a morire ho capito e la lava ti fa male e però magari per uno yoshi rischi qui c'è qui c'è un problema fai un senore di là fai no è qui ma è troppo eccolo lo volevo preso oh questo ti fa male io ho preso lo yoshi ho preso tutto c'è lo yoshi quell'oggettino ok ora che può andare qua su qui basta che era una scorciatoia però a me stavolta uguale basta passà e sotto poi c'era roba dai c'era la margherita la lascio stà però magari era di qua no c'era la vita sotto sotto però sotto però che c'è hai visto che c'è la linguaccia non me l'ha fatta vabbè sotto la margherita la lascio stà la linguaccia me l'ha fatta mentre era in salto vabbè qui l'ho presa stavolta tiro dritto perché ti può impunta oh no mi ridà beh questo lo prendo è qui sì prima suggero prima allora suggero prima quindi vai di qua vai di qua va bene ne prendiamo stavolta nemmeno nemmeno vabbè stavolta la margherita si attacca perché mi fa morire ah su c'è altro oh eh sì per forza vabbè le sfere basta su qui c'è la strada principale oh via c'è una spirittina su ti dice beh può passare anche così no così non ci passi ci passi però allora questi vanno oh che c'era qui questi servono allora questi qui questi sono gli usci marroni credo che cinque di quelli sono gomitoli cinque di quelli liberi lo yoshi se non erro ok qui di qua oh energia energia ah sì sì questo era al sopra è finito lo stage perfetto era al sopra no non è finito lo stage qui 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 ma ah ah c'è un po' di vita sì vabbè qui c'è qualche imperfezione grafica eh che ti fa anche morire c'è anche l'imperfezione grafica ti fa vedere questa piccola imperfezione grafica ma mia bene però per fortuna è poca io non vedo le talpe però allora fammi vedere così speriamo passi per fortuna poco ma era meglio se era a zero eh se c'è anche quello infatti va presa va presa ma non c'hai il coso non c'hai mi dovevo lasciare un nemico in bocca da sputare e vabbè era uno yoshi via pazienza questo è questa è la roba è una roba è una roba è una roba questa è una roba questa è una roba spara in bocca ecco però te li da te li da qui guarda se li può prendi te li da qui ecco non rischio guarda non prendo niente perché se non muoio e andava bene questo lo posso eh aspetta aspetta va bene tanto da ora un po' sono sempre più difficili oh oh che bossettino mi ricorda un po' questo un nemico di wonder boy ah tal palone è qui tanta tanta talpona tanta talpona questo è il primo boss allora credo c'è il boss allora questo non si fa si plana oh no c'è il boss col bug eh io no no il bug non c'è allora sì sì aspetta qui il fuoco mi fa male ah vabbè ho perso ho perso lo vedo ce l'ho fatta beh non so allora ah lo devi far cadere nel fuoco ho capito quel fuoco lì beh ora riprovo perché non c'è la fuoco no 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 ecco ho finito il gomito lì però beh posso manca salto e sparo non capito mi ricorda quel vecchietto il boss di no devi cadere qui in questo fuoco è il boss di monster boy cioè lo zio era quel vecchietto ah stai qui però ancora non capisco bene ho detto e l'ho preso la strategia allora ha cambiato ho messo senza niente sono con un misero cuore preso 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 va bene va bene va bene allora sto a capire va bene c'è un cuore perché c'avevo un cuore solo ora però ci torno con tutti i cuori no me lo rifà a capo va bene è veloce qui allora qui è veloce quindi allora allora magari non so se poi cambio oh qui ce n'era una aspetta qui ce n'è un'altra magari cambio emulatore metto la versione ancora più recente di questa per vedere se ah ma poi tutto vuoi ah c'era questo per vedere se mi levo questi piccoli difetti grafici allora questi vanno fatti qui via via si arriva al boss e si arriva al boss eh poi non ci perdo tempo se tutti non le prendo se tutti se tutti i i i i i i i i i aspetta vi devo arrivare no ma tanto non servono i gomitoli qui come aprivo con la linguaccia ok andiamo al boss quanti cuori c'ho quanti cuori c'ho quanti cuori c'ho salto salto allora qui fu ah ho già sbagliato preso 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 un colpo solo vuole eh ah la prima bass ok chissà chissà se sull'emulatore successivo sull'emulatore successivo però stavolta c'ho più cuore mi levo questi piccoli difetti grafici che ogni tanto appaiono beh non è difficile allora due due colpi quanti ne vuole io ero arrivato grosso modo qui no sì tre tre colpi tre colpi eh tre colpi voleva hai visto allora anche prima ce la potevo fare di poco va bene vale eh questi hanno preso tre di di gomito lì va bene allora niente Yoshi e pazienza 50 toppe timbre ok ecco novi timbre per me non so che cosa ci fa però spilla del potere e sblocco altro ok mulino 21 4 5 poi vedremo che sono queste spilla vai collina dei mulini a maglia 7 e 5 eh niente voglia ok ok collina dei mulini a maglia oh qui vabbè Yoshi ho già capito qui è difficile prendere un altro punto fa tutto il mondo il mondo attuale tutto il mondo uno full che ancora manca qualche stage poi cambio poi fine parte fine parte corrente vabbè così questa se la ammazzi ti da un premio ti da un premio no ti da niente ah qui ah si si allora questo non lo vuole allora qui c'è la linguaggia si è perché quando c'è questi piocchettini qui è uguale ah comitano vabbè qui non lo so che c'è sto parlando andiamolo se no ok quello è un nemico no quello spara comitoli a gratis ok da qui si va via da qui si va via da qui si va via basta qui si è finito i comitoli c'è la lingua Yoshi eh po comitoli ci sono insomma se ti servono qui c'è la lingua qui fiocchettino eh lo vedevo lo vedevo qui qui eh fiocchettino una corda una corda che è che è eh questo serve a questo a questo serve basta vabbè ora c'è qualcosina anche lì in quel mattone mi sa ma tutto non faccio dai va bene così lì hoci quelle che ho liberato me li gioco me li seleziono ma se no quell'altre niente vabbè le monete tutte non le voglio vabbè qui mi dava qualcosina ok andiamo qui via qui non ci va vabbè qui mi dava qualcosina cosa ah niente questo non si può mirare questo sputa e via magari ci va qui ci va piragna non è tanto cattivo come sembra qui ci va nemmeno nemmeno vediamo se va qui qui ancora no eeeh 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 qui conviene via via insomma qui non c'ho più niente vabbè mi sarebbe piaciuto prenditi ma nemmeno tanto ti dirò ecco qui ci va eeeh la margherita dormiente mi dà la vita più queste tre cosine ok e qui come fa ah con questo oh 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 qui sono grosse qui sono grosse eeeh eeeh quanto questi sono gratis quanto sono gratis eeeh 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 qui questo fa più tiri si si va bene qui la lingua e mi dà queste eeeh 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 sono pieni di nemici eeeh adesso allora eeeh eeeh siamo sull'orlo del precipizio qui fai così oh oh vabbè sopra non lo so che roba oh no questa questa non vuole oh so senza niente aah non andava bene non andava bene non andava bene devo tornare qua mi ci vuole tutti i gomitoli vabbè intanto ti ti levo di qui e poi qui devo per forza tornare qua ma prende aspetta questo eh vabbè non lo so che fai te come ti prendo non lo so beh qui devo per forza riprendere le cariche ci torni indietro eh ti dici ci torni ci torni ci torni per forza eeeh qui c'è questo senza questo ok perché ora senza nemici la strada è più corta diventano il piranetto lo stesso però vai oh oh beh questo lo lascio stare andiamo via andiamo anche qui un attimino ecco oh ecco ecco beh serviamo questo perché se no io non le sprecherei tutte e due mi bastano almeno almeno mi lascio dei tiri per questo ah tanto qui c'era il gomitolo questi sono gratis insomma sono gratis se si pienano quattro dopo l'ho bisogna risparmiare risparmiare preso eeeh va bene dai arrivo senza senza aver liberato lo Yoshi di turno ma non c'è problema i Yoshi ne ho tre quattro se voglio uso quelli magari dal secondo mondo uso un altro Yoshi vai di colore diverso ok risultati scenari ok ok e dove? una stella del potere provo gratis una stella del potere e dove le prendo? in quella casetta in quella uno sei qui vabbè dopo guarda dove dove sono e ritorno lì al menu qui la stella del potere ah spilla omaggio questa è ah è una dei due vabbè vabbè facciamo questa gravoiera allora c'ho l'omaggio della spilla gratis incontro esplosivi vai siamo a fine mondo di di pezza eh queste c'hanno le bombe eh però sottotiro allora qui eh gomitoli grandi questo si prende da qui oh vai oh vai questo no vabbè queste le fai così no ecco questi che sono monetini colorati ah no no questo vuol bastone un po' le deve essere la bomba eh le fai scalabomba ok qui eee poi ce le vuole il gomito il gomitolo eh il gomitolo era qua no io inizio da qui gomitoli nuovi non ne ho più ulteriori gomitoli eh fregato eh eccoci qua non c'era questa ah sono cuori sono la vita è 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 la vita ah no mi serve a me quella bomba lassù guarda quella bomba lassù questa mi serve a me eh se no il regalo non cade ah poi c'era questa insomma c'è sempre le solite cose voglio dire voglio dire no vabbè andiamo si va meglio la lingua eh oh questa è l'energia ho capito come si gioca questa è l'energia eh qui ma mi ha un'energia margheritina a casa energia ce l'ho eh questo 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 oh tante bombe tante bombe piazza pulita però Sì, qui così, vai, quasi tutte a lingua almeno, ah qui c'è una bella dinamita, viene, preso, andava bene, vai, oh guarda quanto bel malloppo del tesoro, eh, 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 oh no, oh no, c'è questa lieve imperfezione grafica, oh mega Yoshi, potenti coda, codate, eh, potenti codate, qui devo far veloce, ma poi non so se è la strada principale questa, questo è un bonus però, è un bonus, oh guarda che c'è qui sotto, oh peccato, eh, c'era il cosettino, va, 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 eh, la ditta ha fatto male, va bene, senti se continuai c'è, no, niente c'è, devo andare qui per forza, ok, quindi, allora, quindi, poi come, come, ci vorrebbe una dinamita qua, qua, ci vorrebbe una dinamita, come apro io, come sfondo, questa roba, questa, come lo sfondo, devo capirlo, ah, oh sì, eh, non dà solo le codate, eh, se non fai, ho capito, devo far, ho capito, allora devo far salto e, salto e culata, fammi vedere come si fa salto e culata, salto e giù e pici, eh, beh, qui basta, eh, salto e giù e pici, se no non si fa niente, eccolo qua, senza tempo non sopravvivene, salto e giù e pici, salto, ok, e giù e pici, quello stesso, questo via, questo via, solo il tempo, ecco, ora si passa, si fa così, finisco, ok, ok, ecco, l'arrivo, fatta, 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 si prosegue, andiamo ninja, sei un ninja, sei, la bomba, misera, per fortuna ho tanta vita, sopra, queste sono finite quando fa così, che ne so, mi ricostruisce la scala, ok, perché mi devi far danno, perché sono infinite, qui non ci va, qui non ci va, c'è un regalino di qua, c'è un regalino di qua, c'è un regalino, ah, qui, ecco, ho finito tutto, vabbè, dai, dai, regalino, magari c'era una margherita o qualcosa, ma vado via, si, vado via, faccio qui, che è strada principale, questo, mentre questo non vuole, questo non si sposta, si fa così, vabbè, però non ce la so, ci vuole ancora la dinamite, dinamite, ok, beh, questo si prende, si prende, insomma, prende anche Osi, ah, vero, si, non si prende, beh, ma qui casca tutto, però, tanto vedo, non c'è nemmeno il timer, no, qui non casca un bel niente, si, però, insomma, ti dice, hai aperto anche Osi, vabbè, l'ultima volta, ah, su, c'è un ulteriore, e poi, così, vabbè, o facevi quello, o facevi questo, eh, ecco, vabbè, andiamo via, questa, poveri, ritornano, però, certo era qui, eh, certo era qui, però, te lo dava, insomma, questo oggettino, e, guarda, va, si, vai, fa un resto, basta, mo, che ho preso, un carrettino. Un puntami a prendere tutto, no? Le cose che mi trovo davanti magari, sì. Ok. Me ne mancava uno, vedi, di... come si chiamano? Gomitoli. Siamo a mondo 1, eh, non lo so se poi a fine tutto mondo attuale c'è un boss o qualcosa, a parte un boss l'ho già trovato. Proviamo a vedere il mondo 2, se è questo un portale. Questo ancora niente, andiamo all'1.7. Schianta a terra, 5.000, ne voglio mica. Ma facciamomeli grandi, dai, spendiamo. Ok. Ok. Sì, ma non è che è un LittleBigPlanet questo, però, sì, c'è insomma il cotone e la pezza, i pupazzi di pezza. LittleBigPlanet è uscito prima nel 2009, questo è il 2015, comunque è bellino, insomma. No, qui non c'è Mario, c'è solo Yoshi. Un gioino bellino, allegro, colorato. Sì, giocabile. Divertente. Poi non l'ho mai fatto, insomma, Blinderun, Blinderun. È emulato parecchio bene, non perfetto, ma, insomma, quasi, dai. E magari affogo, qui, questa affoga, con... qui ti dice che in acqua non lancia. Allora, qui che fai, ti arrampi al formaggio, sì. Ah. Forse sul... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ancora dopo di questo, mi levo anche questi piccoli difetti grafici... ... 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 Allora, si, 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 certo, certo, ma qui conviene direttamente, vabbè, c'è roba non la fo, ovvio i mondi andrebbero fatti tutti, i mondi andrebbero fatti tutti, tutti perfetti, cioè, non è come fai, bene fai, però, insomma, la cosa è lunga, tutto gas, eh, ok, veramente cose li danno alla moto, sì, questo è un po' di diversivo, allora tutto gas, è meglio di no, andiamo piano, ah, c'è il tempo, c'è il tempo, un po' da gas, sì, LittleBigPlanet andavi sullo skateboarding, però, qui va sulla moto, allora, si, ho preso l'oggettino, il tempo, poi, non l'ho mai giocato, lo gioco ora per la prima volta, eh, non so cosa c'è, cosa mi aspetta, eh, per ora è bellino, eccoci qua, fatta, eh, 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 allora si va, ah, un po' di vita, ok, qui, si, niente, vai, niente, così cancello, così miro meglio, eh, però, vedete, c'è, ma l'acqua a fuoco? no, ah, c'era questo io, questa roba, potevo evitare, poi c'era un timbrettino, beh, il resto non lo piglio, magari c'era la roba migliore, però, lasciala stare, oh, il formaggio, il formaggio, pericoloso, ah, uguale, ah, eh, ma spari sott'acqua, dimmelo, ah, ah, dimmelo che mi spari, va bene, rimaniamo qui, che mi fa passare, a vedere se mi fa passare, così, 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 e qui devo passare per forza, se non si va avanti, te ti lascio stare, che non mi dai noia, aspetta, sto sparo, dove l'ho preso sto sparo, mica lo so, ce l'avevo da inizio stage, questo è uno sparo infinito, che ho trovato qui, beh, ora più va, ce l'avevo con questo, ma non mi spara più, non mi spara più, e allora niente, questo è una lingua, va bene, però le poverità, così, oh, vai, qui, siamo sul piano, eh, stage finito, ah, 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 arrivo, ah, lì, oh, vai, uno sette, vediamo qui, c'è se c'è un boss o qualcosa, ho preso poco, ma va bene, sì, fuori stage, insomma, non mi so, fermo, eh, più di tanto, spilla o mangio, sì, le provo, le provo, allora, ancora è mondo attuale, questo è proprio l'ultimo posto, uno otto, sì, lo finiva tutto, non c'è più niente, uno otto, ah, andiamo, ah, dopo c'è altro, mondo uno otto, castello di goffri, questo senz'altro è un altro boss, potenza e lo schianto, sono queste, guarda, dammi questo, visto che è gratis, oh, vai, uno otto, penso che qui è fine mondo, oh, sarà difficile, ora, vediamo, beh, questo è gratis, beh, questo può non serve ucciderlo, questo fa così, eh, eeeh, eeeh, c'è una roba, anche qui c'è le solite margherite, beh, ho capito, non le voglio, guarda, eeeh, oh, oh, mamma mia, non le sono incartato, io non fa niente con questo, ah, ma non era obbligatorio, ah, ho preso quello a fare, sì, vabbè, ho capito, c'era roba, io ti ringrazio, però, questo lo devo prendere per forza, c'è le margherite, allora, noi fai così, le posanità in testa, però, sì, muoiono, muoiono, come tutti, va bene, basta, basta, porta aiuto, eeeh, qui cos'è, oh, porta aperta, qui, senza altro c'è un boss, perché è proprio fine in mondo, no, e viene qua, queste porte sono a calamita, ok, eh, ancora, devo ricordarmi di andare tutto a destra appena entro, vai tutto a destra, dai, se no ti esci di, in automatico, ah, ma è solo un bonus, vabbè, dai, non lo voglio, anche pericoloso, vedi, andiamo, andiamo, cercavo la strada principale, ti ringrazio, delle monetine, però, allora, e, ti dice, sei arrivato, poi non ti fa vedere, proprio, altra cerniera, vediamo, ah, su, c'era roba, e vabbè, mmm, vai a destra, e ti fanno anche morire, se vai a destra, beh, vai qui, sì, vai qui, chiuso, se c'è qualcosa, mi torna, qui c'è qualcosa, mi torna peggio ancora qui c'è qualcosa, ho sbagliato senza quelli su non sali, ok, ripetiamo allora, senza quelli su non sali, quindi questo ti porta qui, questo qui eh, ma su non fa niente qui che fa? c'erano anche prima allora, si aprerebbe da sopra che è questo lazio qui proprio non fa niente no, qui non si aprerebbe da assolutamente allora, l'ho riso bloccato se te le levi è peggio no, guarda che c'era eh, se lo sapevo prima forse ce lo fu si, ma no, non so non ci ho guadagnato niente niente, ci ho guadagnato eh, ti vedo come lo apro io sta roba vabbè, io ammazzo anche te per curiosità poi eh, anche peggio ma anche se ci sono loro qua subito che non ci vado ora devo riprovar perché l'unica strada è qui aspetta, se fosse qua su la strada è inutile, su, tirisce qua su che c'è qualcosa? c'è un sacco e basta, eh beh, questo vale po' a prenderla tutoria, ok ok la strada per forza in questa porta arriva per forza in questa porta arriva però io te le vado su non so che farci io qui ecco aspetta, forse prosegui no, che non prosegui sì vabbè, sono rimasto collocato io eh qui stavolta non c'è più niente non c'è più non c'è più niente qui ci vuoi beh, la vita è lo stesso non è il problema della vita il problema è che ah c'era una linguaccia ma guarda e per forza non poteva essere chiusa la strada ecco, ho capito, ho capito ho capito dove mi apre sta chiave c'era un laccetto, un fiocco c'era un nodo no, vieni qua c'era un nodo ho capito ora dove si va quella porta chiusa eeeh e c'era la strada c'era cioè nascosta nascosta si vedeva è lì dove fa qualcosa poi uno gira gira insomma eccoci qua ah capolinea pigliamo un attimino ma ce l'ho due cotone due vabbè, so qui da 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 eccoci qua questa è la chiave per fine mondo 1 completo energia ok ok allora queste linguaccia niente questi li fanno da trampolino da per prendere ste monete se uno le vuole questi ce l'ho qui mmmh qui qui questa è veloce oh 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 qui qui eh questo non lo vogliopted via vita Oddio, come vanno forti queste! Come vanno forti! Si può morire così. Che avevo saltato. Avevo saltato. Te lo dico meglio, avevo saltato. Ma sai che avevo saltato in più plana? Però niente, via, mi è andato giù. Eeeh, via questa! Questa, questa non lo voglio. Ok, ero arrivato io. Qui ero arrivato, questa è velocissima. Da, ma si prendano! Eccola qui. Come fai a mancarla? Eccola qui. Eh, succede. Eh, vedi però? Oh, no! Oh! Vabbè, su, senz'altro c'era roba, ma la lascio sta, guarda! C'era roba! Dai, poi ti prendo, tieni. Ah, un po' di energia. Questi niente. Oh, vai! Eh, c'era oggetti, però, insomma. Ho tirato dritto. Eccolo qui. Questo mi ricorda quello di Monster Boy. E' lo zio di Monster Boy di inizio gioco e poi anche vicino a un ultimo boss. Allora. Ovviamente questo è un altro, però, un po' me lo ricordo. che lui era un mago con la bacchetta. Ecco il secondo boss. Oh, mamma mia! Questo è già pantalone di Obelix. Questo come si batte. No, ti dici. Diamo che qui c'è qualcosa, fammi vedere. Allora. qui vuole che li tiri questi. Ho capito. Ho capito. Ho capito. Parte va a questi, va. Ecco, ecco. Se c'è i gomitoli bene. E' alto questo per saltargli. Come faccio? E niente, io non c'ho più niente. Ecco, ecco, ho capito. Ho la linguaccia, ho capito. Oh, non ce l'ho più. Ma oh, è ancora più arrabbiato. E' massiccio e arrabbiato. Ho ho. Fammi vedere un pochino la strategia. Oh, se arrivo con sette gomitoli. Sì, infatti c'è, mi da proprio la strada. Prima del boss e dell'entrata c'è, eccoli qui, sette gomitoli. Questi me li devo conservare tutti per il boss. Poi però c'è queste e delle vassi. Allora. Allora. Beh, c'erano tanti, ma c'è una bella scorta. Allora. Che devo fare? Ah, qui era difficile. Può fare anche così. Ok, andiamo, andiamo. Qui ti leva un po' di vita. Eh, quanta vita ho? Eh, non lo so. Credo tutta. Credo tutta. Questa. Vai, ti ho visto. Ho capito. Eh, questo è il trucco è... ti lasci... e... e questi ti lasci... e li faremo su due. Il trucco è che entri coi gomitoli. Oh, quanti so qui. E' lo stesso che prendi, prendi. Ah, ora non ce l'ho più. Ora sì, però. Oh, ne vuole un altro? No, so tre, so tre. No, sto è stato. Nel boss sono sempre tre step. Tre colpi, muoiano in tre colpi come in Super Mario. Spesso è così. Per ora è così anche qui. Oh, vai. Mondo uno tutto completo. Vediamo se mi apre. Il mondo due, eh? Beh, per forza. Sì, sì, ho trovato due boss allora in questi. Eh, nel mondo uno c'era due boss. Uno a metà percorso e uno a fine percorso. Eccolo qui, questo. Questo dove te lo porti dietro fino alla fine, ho già capito. E il mondo due, sì, cambia. Dal prato si va al deserto, eh. Altri ne mette qui, sì, ho capito come gira sto gioco. Ora sparge altri Yoshi qui. Ecco qui, mondo uno. Dove sono gli Yoshi? Camminavano per qui. Eccolo qui, ho preso solo questo e questo, eh. Ma va bene. Eeeh, queste sono le margherite. Qui va nel mondo due. E allora, da dove me l'ha aperta la strada? Credo ci vai da qua. Eccoli va, questo. Sì, la prossima partita lo gioco. Questo, vai. Giusto per cambiare colore. E qui c'è il mondo due. Va bene, fine Yoshi, prima, parte. Vai, andiamoci subito, va, così. Parto da qui, mondo due. Fine Yoshi, prima parte. Qui va, andiamoci subito. Qui va, andiamoci subito. Qui va, andiamoci subito. Qui va, andiamoci subito. Grazie.